Buongiorno, buon venerdì 9 di giugno, quindi per avere notizie reali sulla situazione economica del cinesino di Viale Padova e di Occhio di Lince, bisogna andare a leggere il New York Times, perché in Italia se anche voi siete costretti a leggere il New York Times per avere informazioni su quelli là, mettete un like al video, iscrivetevi al canale e la campanella per le notifiche, è tutto gratuito, serve solo a far crescere il canale, perché magari qui qualcuno dice che la situazione di quelli là è quella descritta da New York Times, da altre parti no. Veniamo quindi alla notizia del New York Times di ieri, situazione debitoria ai limiti della realtà, oramai superato ampiamente come abbiamo spesso detto su questo video, ha superato ampiamente il miliardo, si continuano a chiedere prestiti a questo fondo Oc3, pare che non ci siano soldi in cassa, tanto che il progetto San Siro, quello che doveva vedere fare il Milan e l'Inter, fare un progetto per un nuovo stadio, alla fine non pagavano neanche gli architetti e i progettisti, li pagava solo la C Milan e quindi anche per questo il progetto stadio si è ecclissato, ma quello che succede in casa del cinesino di Viale Padova e di Occhio di Lince, la nostra stampa pensa bene di non farcelo sapere, bisogna andare a leggerlo sul New York Times, poi magari diranno che è una fake quella del New York Times, magari Mentana con il suo amico quello che decide soggettivamente ciò che è vero, ciò che è falso, che esce sull'informazione, magari ci verrà a dire che ciò che dice il New York Times è una fake news, sono dei complottisti, perché Mentana è capace e comunque resta il dato di fatto, una situazione debitoria incredibile, un esercizio di bilancio disastroso, un patrimonio netto negativo, e quando facevo notare queste cose a mio figlio ieri mi diceva sì però sono in finale di Champions, e loro così ti rispondono, infatti gli ho detto Lori, ma hai risposto come mi rispondono loro, sono in finale di Champions, sono in finale di Champions perché nessuno in Italia interviene su questa anomalia che sono diventati, sono in finale di Champions, a parte per il culo che hanno avuto, anche nell'incontrare, e lo dico a nostro, un pessimo Milan in semifinale, anche per quello eh, sono in finale di Champions perché in Italia non funziona nulla, non ci sono organi di controllo, ci si può iscrivere ai campionati senza avere una lira, con il patrimonio netto negativo, si possono iscrivere, possono essere, sono andati in Champions lì perché in Italia se c'è qualcosa che non va, si fa la regina ad hoc, si batteggia, o si censura, con loro si censura, è più facile, non si dice, non si dice nemmeno, ce lo dice però il New York Times, una situazione incredibile, paradossale, infatti nell'articolo si sottolinea questa cosa no? E si dice nell'articolo che malgrado la squadra sia in finale di Champions League non sono problemi irrisolvibili, non è che sono problemi che li risolve una finale di Champions League in cui ovviamente speriamo, anche per la giustizia, perché ci deve essere un briciolo di giustizia in questo mondo, vada come deve andare, mi raccomando Pep, mi raccomando, e noi ci dibattiamo sulle nostre problematiche, su Maldini che se ne va, su Cardinale che pensa solo al bilancio, ha fatto fuori questo, ha fatto fuori quell'altro, poi dopo cosa succederà? Succederà che compreranno frattesi a 30 milioni? Come? Pagando a babbo morto? Come funziona questo calcio? Pagano a babbo morto? Come funziona? Come può essere che sto cinesino che non può rientrare in Cina e non smetterò mai di dirlo? Cioè quelli che dicono, continuo a dirlo, sì sì io continuo a dirlo e lo ridico e lo ridico e lo ridico finché qualcosa non succederà, perché non è accettabile una situazione del genere, non è non è né giustizia, non è concorrenza sleale, è silenzio delle istituzioni vergognoso, è proprio potere al Stato puro che decide di oscurare un problema che è oramai sotto gli occhi di tutti, almeno sotto gli occhi del New York Times, non solo del canale Bandito Rosso Nero, perché se lo dice Bandito Rosso Nero, sciecazzate, se invece lo scrive il New York Times, cosa facciamo? Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport, Tutto Sport, la stampa, il giornale, la verità, tutti i muti, sono così potenti, sono così potenti e mentre loro, adesso aspetteremo poi i botti di mercato che faranno, faranno le bombe di mercato frattesimi, tanto a babbo morto, noi ci dibattiamo nel nostro mercato, allora, se fosse come dicono, come è emerso ieri, ci stiamo muovendo sui parametri zero, ed è quello che molto sommessamente chiedevo, prima che ci fosse il terremoto Maldini, chiedevo di fare alla dirigenza, quindi di dedicare le prime botte di mercato ai parametri zero, perché poi si accasano, e lo vediamo con Dica, ad esempio, che a quanto pare è un giocatore che seguiamo da tempo, che è stato segnalato da tempo, che ci servirebbe perché può fare sia il centrale che l'esterno sinistro, quindi libererebbe lo spazio e accompagnerebbe alla porta Ballot-Touré, però siamo arrivati tardi, perché pare che la Roma oramai sia molto più avanti di noi, quindi il nostro è sempre stato un problema quello di arrivare tardi, ora le idee ci sono, ma gli altri sono partiti prima di noi, è la cosa che ritorna in tutti i mercati, ora Moncada dovrà certamente cercare, segnalare, ma Furlani saprà concretizzare, saprà portare a termine, oppure avremo tutta una serie di nomi che ci interessano, su cui dovremmo andare, e non capisco perché non ci siamo andati prima, questo lo chiedo anche a Maldini e a Massara, scusate, ma se Dica e Tillemans ci servivano, perché abbiamo lasciato che la Roma facesse prima di noi la Roma, la Roma, la Roma che va in Europa League, quando dicevo sui parametri zero ci si muove prima, perché poi non è che aspettano che arrivi tu a fine giugno, sono parametri zero se devono piazzare, non è che aspettano te, infatti noi a quest'ora avremmo un Dica tra le nostre fila e invece probabilmente lo avrà la Roma perché è arrivata prima di noi, riusciremo a far cambiare idea a Tillemans oppure il procuratore dirà no, ho già dato la parola a quelli là, vado da quelli là, Furlani, riuscirai a convincere quelli su cui probabilmente stiamo andando in ritardo e non capisco perché non ci siano andati prima, se servivano, perché non ci sono andati prima. Ecco perché poi questi problemi che ci sono interni si vanno sempre a complicare quello che è il calcio a mercato, perché ci perdiamo in chiacchiere, in liti tra di noi e poi arriviamo tardi sui giocatori, quindi speriamo che questo cambi, perché questo dovrà cambiare per forza, però intanto un giocatore che ci poteva far comodo, poteva fare anche il terzino sinistro, il viceteo, lo perderemo perché non ci abbiamo pensato prima o perché avevamo chissà quali altre idee, quindi io mi auguro che ci sia una svolta, però se Moncada sarà bravo a segnalare e a trovare, vedremo e metteremo alla prova Furlani sull'andare a chiudere le operazioni, perché altrimenti faremo tante chiacchiere e concluderemo poco e male. Vediamo ragazzi, vi ricordo, non vi costa nulla il like e l'iscrizione e vi ricordo che per avere informazioni economiche sulla situazione disastrosa del cinesino di Viale Padova bisogna comprare il New York Times. Forza pep, forza pep, forza pep.